Ritorniamo in diretta per collegarci con il nostro primo ospite di oggi, il professor Daniele Manni di Lecce, che vediamo in videocollegamento. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi a tutti i tele e audio ascoltatori. Noi ti abbiamo disturbato durante queste festività perché ovviamente nel corso dell'anno sei impegnato a scuola, quindi ci siamo fatti coraggio e ti abbiamo chiesto di dedicarci qualche minuto per raccontarci la tua splendida storia e la tua preziosissima esperienza. Ci perdoni? No, lei è un disturbo, è un gran piacere e onore, devo essere sincero. Grazie, per noi è lo stesso perché da un po' di tempo che ti seguiamo sei, come si suol dire, balzato agli onori della cronaca e viva Dio perché tante volte è bello quando notizie importanti e belle vengono condivise perché tu non sei un professore come tutti gli altri ma sei un professore che... Sono strano, sono strano, sono molto strano. Io approfitto dell'assist per dire che spesso quando vado nelle scuole medie a raccontare quello che facciamo, parto subito dicendo che sono un docente strano, la nostra scuola è strana e gli studenti li vogliamo strani, quelli normali non li vogliamo. Largo spazio quindi alla creatività di cui ce n'è tantissimo bisogno non solo quando paradossalmente si fa informatica perché tu sei un docente di informatica ma molto di più quando si pratica l'auto imprenditorialità che è il tuo asso nella manica, il tuo modo con il quale entrare in una connessione più stretta, più diretta con i ragazzi, entrare un po' nelle loro vite, nel loro mondo, fargli comprendere come sia importante oggi più di ieri, lanciare il cuore oltre gli ostacoli e mettersi in gioco in prima persona. Quindi ecco, svelaci qual è il tuo segreto. Sì, allora detto molto in breve, hai detto una cosa vera, molti anni fa, circa 20 anni fa io insegnavo solo informatica e avevo risultati per tutti i docenti di informatica, tre, quattro ragazzi bravi, i nerd e tutti gli altri che non mi seguivano per nulla e dopo tante pensieri, peripezie, perché io davo la colpa a me stesso di questo risultato, non ai ragazzi. E quindi ho cominciato a cambiare, a sperimentare e la mia sperimentazione, ripeto, oltre 20 anni fa è stata quella di sfincere i ragazzi verso una mia passione, che era l'imprenditorialità, cioè la voglia di inventarsi un servizio, un prodotto e cercare di metterlo sul mercato in tutti i modi possibili, sbagliando, fallendo, rialzandosi. E così ho fatto, ovvio che io insegno in un tecnico economico, quindi ero nel, come dire, nell'acquario giusto per poter fare una cosa del genere. E ho scoperto, a posteriori, che a prescindere dal futuro che avrebbe scelto il singolo ragazzo o la singola ragazza, questo allenamento alla mentalità imprenditoriale ti aiutava in qualsiasi ambito. Perché? Perché con cinque anni di allenamento, come si diceva, verso la creatività, verso il mettersi in gioco, verso il rendersi protagonista, dava ai ragazzi tante di quelle competenze trasversali, che erano utili in qualsiasi ambito. Parlo di resilienza, parlo della mentalità da problem solver, cioè la predisposizione a risolvere problemi, il lavorare in team, la considerazione importante che l'errore e il fallimento non sono cose drammatiche, ma fanno parte del percorso e soprattutto la fiducia in sé e nelle proprie capacità. I ragazzi che fanno questo percorso arrivano al quinto anno, devo ammetterlo, strani, diversi dagli altri, perché hanno avuto la possibilità di scoprire quanto loro hanno come potenziale. Tutte cose estremamente importanti. Io tra queste mi soffermo sul concetto della controcultura del fallimento, perché tante volte per i ragazzi fargli pesare gli errori che fanno può essere devastante da un punto di vista di sviluppo della persona, dello studente, del futuro professionista. Il fallimento invece, come ci stavi dicendo tu, deve essere un'occasione ancora più importante e preziosa per conoscersi meglio e provare a non ripetere gli errori già commessi, quindi a fare meglio di come si è fatto. Di questo ne abbiamo parlato qualche settimana fa, forse anche qualche cosa in più, con Francesca Corrado, la founder della Scuola del Fallimento, che non so se conosci. Ma che meraviglia! Forse ne ho sentito parlare e anche allora quando ho letto questa frase mi sono detto ma che meraviglia! Hai perfettamente ragione. Soprattutto qui in Italia c'è questo concetto pesantissimo del fallimento, e io qui approfitto per fare mia, perché non è mia questa espressione, ma mi è piaciuta così tanto, quella di Giancarlo Orsini, un caro amico, in cui diceva sostituiamo la parola fallimento con tentativo non riuscito, perché è quello che è. E allora i ragazzi prendono contatto con questa occorrenza, con quello che succede, in maniera totalmente diversa, perché se la vedi come un tentativo non riuscito, comprendi che è uno dei tentativi. Poi c'è un'altra ragione fondamentale, è inutile che ci giriamo intorno, la dicitura sbagliando si impara, è maledettamente vera, ed è solo facendo che si possono sbagliare le cose. Noi abbiamo nella maggior parte dei casi, i ragazzi che fanno tutte le scuole superiori, poi fanno l'università, poi magari fanno il master, arrivano a 26, 27, 28 anni, e in quel momento si affacciano alla vita, senza mai aver affrontato quello che può essere un fallimento, se non magari qualche, come dire, intoppo, ostacolo durante il percorso di studio. E iniziare a quell'età è pesante, perché in pratica a 26, 27, 28 anni, quando ti stai affacciando alla vita, e non sei allenato ai fallimenti, può essere veramente drammatico. Mentre se cominci a 14, 15, 16 anni, a macerare questo concetto, arrivi a quell'età che sei molto ben allenato, e la vita la affronti con molto più, non voglio dire leggerezza, ma quasi. Sono assolutamente d'accordo con te, questo entusiasmo che traspare dalla tua voce, tra l'altro, ecco, è l'indice di come tu creda davvero in quello che dici, e lo riesci a trasmettere ai tuoi ragazzi, ragion per cui, dopo tanti anni di lavoro sul campo, hai ricevuto questo importantissimo riconoscimento, sei il primo docente italiano ad aver vinto il Global Teacher Award nel 2020. Come è stato ricevere questo riconoscimento? Allora, devo essere onesto, io sono un po' allergico ai riconoscimenti, nel senso che da molti anni, col fatto che i miei ragazzi fanno cose molto particolari, sono molto abituato a vedere loro vincere premi e riconoscimenti, perché in tutti questi anni hanno sempre avuto delle grandi soddisfazioni, e io da docente ancora più di loro. Quando invece è toccata la mia persona, devo dire che ho reagito non benissimo, nel senso che ero abituato a stare dietro le quinti, allora tutta questa luminosità, tutta questa luce addosso, mi ha creato un po' di tensione. L'ho superata e ho capito invece qual è l'aspetto positivo della cosa, perché quando tu ricevi un riconoscimento internazionale e si accendono i riflettori, ovviamente la tua storia arriva lontano, e questo è l'aspetto importante, perché da quel giorno poi tanti colleghi, tante scuole hanno cominciato a contattarmi, chiedendo collaborazioni, chiedendo spiegazioni di quello che facciamo, e questo è il grande aspetto positivo. Però ci ho messo qualche mese per capirlo, perché ripeto, non ero abituato alle telefonate continue, al giorno, alle interviste, ero un po', come dire, rifugiavo un po' da queste cose. Invece allora ho imparato, ed è il motivo ancora di più, perché accetto il vostro invito, perché ripeto, raccontare quello che i ragazzi fanno, raccontare quello che hanno nel loro potenziale, quello che noi non immaginiamo neanche che possono tirar fuori, forse se qualcuno l'ascolta, comincia a prenderlo in considerazione e crea nel posto dov'è, nel luogo dov'è, una micro imitazione, emulazione, e dà la possibilità ai ragazzi veramente di esprimersi. Noi è proprio per questo che ti abbiamo invitato in diretta nella nostra trasmissione mattutina Just Today su Padre Pio TV, perché crediamo nell'effetto moltiplicatore delle buone azioni, delle buone notizie, e poi ecco quanto è bello potersi confrontare con modelli che funzionano e provare a replicarli, quanto è bello lasciarsi contaminare dalle buone pratiche, dalle belle esperienze. Penso che l'Italia è una nazione da sempre di artisti, di talenti, di scienziati, di esploratori, abbia ancora tanto bisogno di persone che come te appunto diano un segnale di speranza, di entusiasmo, di approccio alla vita, così come lo abbiamo definito finora, proattivo, quindi con questo approccio di autoimprenditorialità. Noi ci fermiamo soltanto un istante, perché dalla tua esperienza diretta di docente, nella seconda parte di questa intervista, ci concentreremo su quello che siete riusciti a fare con i ragazzi, quello che hanno fatto i ragazzi, e quindi faremo un focus sui progetti più importanti nati con loro. Ritorniamo tra qualche istante. Riccoci tornati in diretta con il professor Daniele Manni dall'Istituto Galilei Costa di Lecce, con il quale stiamo affrontando questa bellissima chiacchierata sull'importanza di mettersi in gioco anche a scuola, di non aver paura di sbagliare, di superare la logica del fallimento come pietra tombale sui nostri sogni, sulle nostre aspirazioni, sui nostri progetti, che sia invece palestra di vita e di miglioramento continuo di noi stessi. È così che nel suo istituto, dove insegna ormai da tanti anni e attraverso il cui approccio ha vinto nel 2020 il Global Teacher Award, una sorta di Nobel per i docenti, il primo docente italiano ad aver vinto questo riconoscimento, dicevamo che è proprio così che all'interno del suo istituto nascono ormai da diverso tempo start-up curate, ideate, progettate, sviluppate dagli stessi studenti che hanno vinto a loro volta numerosi premi. Io ne cito solo alcune, poi lascerò allo stesso prof la scelta su quale di queste concentrarsi per farci il suo racconto personale. I studenti sono venuti fuori start-up come Ma Basta contro il bullismo e il cyberbullismo, Ecoisti a favore dell'ambiente, Smart City e come apro una app per le riaperture post-covid. Prof, quale di queste start-up ricordi con queste è associato uno a un aneddoto più interessante degli altri? Sì, i ragazzi ne creano veramente tante. Noi creiamo ogni anno una start-up di classe, quindi ogni classe deve ideare una nuova idea di servizio prodotto da mettere sul mercato e in più capita sempre che qualche ragazzo all'interno della classe magari si unisce a qualche socio e vengono fuori. A un certo punto, prof, abbiamo avuto un'idea e a qualche volta accade che l'idea mi piace quindi le portano avanti altri. Quindi sono veramente innumerevoli le idee dei ragazzi di quello che hanno messo in piedi. Se mi chiedi quale è quello che mi sta un po' più a cuore devo dire che è proprio la prima che hai menzionato. Ma basta, di cui non si vede ma qui accanto a me c'è chi la sta portando avanti e greggiamente, adesso ve lo racconterò. Ma basta, è nata nel 2016 per un errore quasi, nel senso che i ragazzi stavano pensando a tutt'altra idea di start-up che dovessero realizzare un magazine online che raccontasse i successi dei giovani quando poi è capitato a gennaio del 2016 un episodio di una ragazza che ha tentato il suicidio Pordenone seconda media per bullismo. Lì i ragazzi quando ne abbiamo parlato in classe si sono animati molto come dire si sono agitati allarmati si sono arrabbiati che una ragazza di 12 anni potesse tentare di togliersi la vita per qualche atto di ragazzate come le chiamano che poi ragazzate non sono perché appunto i ragazzi arrivano a queste scelte così pesanti allora hanno deciso di fare qualcosa questa loro decisione di fare per la prima volta si è rivolta al sociale perché fino a quel giorno tutte le nostre start-up erano economiche prodotti, servizi che vengono venduti sul mercato più producono più fanno guadagnare questa volta gli dissi ragazzi però se fate qualcosa sul bullismo cioè non c'è da guadagnare nulla e loro imperterriti non ci interessa ci piace troppo questa cosa e quindi hanno creato addirittura un movimento contro il bullismo infatti ma basta questa genialità di avere nel suo acronimo stesso la mission e il chisoro infatti ma basta sta per movimento anti-bullismo animato da studenti adolescenti geniale hanno messo in piedi questo movimento e io non ero affatto come dire preparato ha avuto un successo enorme subito proprio appena annunciato i ragazzi sono stati attenzionati dai TG nazionali da Stiscia la notizia dopo sei mesi hanno ricevuto una medaglia dal presidente Mattarella un anno esatto la loro nascita erano sul palco di Sanremo insieme a Carlo Conti e Maria De Filippi quindi sono stati conosciuti da 14 milioni di italiani e per farla breve per 5 anni i ragazzi l'hanno portato avanti poi nel 2020 si sono diplomati e di tutti e 15 che portavano avanti questo movimento che poi hanno scelto strade diverse uno in particolare come vi dicevo prima Mirko Agazzato che è qui seduto accanto a me ha deciso il giorno dopo del diploma di dire prof io questo voglio portarlo avanti voglio che sia il mio lavoro l'ho fatto riflettere bene perché era una scelta importante ma lui ci ha messo 5 minuti a riflettere ha detto mi piace voglio fare questo e adesso sono due anni che Mirko porta avanti ma basta egregiamente è diventato un movimento nazionale girano con i suoi studenti con il team ma basta che sono sempre i miei studenti della mia scuola praticamente sono 30 ragazzi che fanno parte del team lui li guida e il team leader e fanno visite in tutta Italia sono stati in Sicilia sono stati in Emilia Romagna andranno in Piemonte cioè hanno creato questo movimento straordinario di ragazzi che aiutano i ragazzi ed è questa la formula assolutamente vincente diciamo che questa è la start up di cui vado più fiero proprio perché tocca il mondo del sociale poi c'è un'altra che non hai menzionato di un altro ragazzo Alberto Paglialunga che ha deciso come dire dopo 3-4 anni in cui cercava di lavorare non l'ha trovato di mettere su un piccolo e-commerce dal suo paesino nel garage è partito vendendo piccoli oggetti poi si è largato verso i condizionatori anche lì per farlo a breve in 8 anni oggi ha un fatturato di 60 milioni l'anno stiamo aspettando il fatturato del 2022 perché quello di 60 milioni era il 2021 e cosa più importante di tutti dal lavoro a 200 ragazzi sotto i 35 anni qui a Lecce non stiamo parlando del nord-est quindi c'è questa grande soddisfazione di Alberto che va a letto e lui dice io mi cuorico ogni sera contento di dar lavoro a 200 persone e spero che il giorno dopo possa arrivare a 201 202 cioè lui conta il suo successo in base alle persone a cui riesce a dare un futuro carissimo prof sono veramente parole bellissime quelle che ascoltiamo stamattina dalla sua viva voce e sono la misura di come gettare il giusto seme nel campo della formazione scolastica prendersi cura di questo seme prendersi cura dei propri allievi possa portare risultati straordinari e penso che ecco i dati che ci hai appena restituito siano veramente emblematici temi importanti generazione di posti di lavoro io ne approfitto per salutare Mirko che è accanto a te che magari nelle prossime allora facciamo una cosa strana giro leggermente il computer così potete salutarlo un attimo solo assolutamente sì assolutamente sì se lo merita ciao Mirko buongiorno ben trovato e complimenti ecco come abbiamo visto dal monitor del tuo telefono mentre lo stavi girando da quella parte oltre Mirko abbiamo visto anche il logo di WeDo un progetto che riproponevamo già attraverso una delle tue foto reperite su internet la WeDo Academy che evidentemente è un follow up rispetto a quello che ci hai raccontato finora complimenti alla regia per aver colto così velocemente al volo questa immagine sì WeDo Academy nasce un paio di anni fa quando diversi amici sparsi in Italia mi dicevano Daniele fai cose bellissime con i tuoi studenti ma è un peccato che lo limiti solo ai tuoi studenti e mi hanno convinto appunto ad aprirmi verso l'esterno e WeDo Academy è proprio quello dà la possibilità ogni anno di fare dei summer camp a dei ragazzi dai 10 ai 19 anni non appunto studenti che vengono da tutte le parti d'Italia perché poi approfittano per visitare il Salento i genitori in quella settimana visitano il Salento i figli seguono il camp e hanno questa meravigliosa opportunità di scoprire questa la bellezza della mentalità imprenditoriale nel camp ascoltano prima tante storie di giovani che ce l'hanno fatta di giovani che hanno fallito di giovani che si sono rialzati e cariche di queste storie poi cerchiamo di stimolare la loro singola storia e leo di la verità che vengono fuori delle idee fantastiche proprio dal summer camp di quest'estate è venuta fuori l'ultima grande gigantesca start up che stiamo seguendo molto da vicino in questi giorni si chiama Salentia dove il nome Salentia si rifà ad un antichissimo nome per il territorio poterà prima chiamato Salentum oppure Salentia ma per noi quella IA finale sta per intelligenza artificiale quindi è il territorio la bellezza antica del territorio proiettata nel futuro prof io non non posso che fare a meno di ringraziarti ancora una volta per essere stato qui con noi stamattina perché ci hai colmato il cuore di gioia di bellezza e noi non possiamo che augurarti di centuplicare i tuoi successi i tuoi traguardi perché poi saranno i traguardi dei tuoi ragazzi e quindi è un augurio di ampissimo respiro ti ringraziamo per essere stato con noi speriamo di risentirci presto per raccontare ancora tante cose belle e tanti nuovi traguardi raggiunti con i tuoi studenti grazie a voi grazie a voi di avermi dato questa bellissima opportunità e sì accetto volentieri se noi ci risentiamo fra sei mesi o fra un anno sono sicuro di dare tre quattro cinque altre nuove idee che ragazzi hanno sviluppato perché sono di una dinamicità pazzesca ti ringraziamo di cuore ci contiamo davvero per cui ti auguriamo buon proseguimento di giornata e ti diciamo a questo punto arrivederci buona giornata approfitto perché faccio ancora in tempo ad augurare buon anno buon anno e buon futuro a tutti quanti grazie ancora grazie a te prof linea alla regia ritorniamo in diretta tra qualche istante grazie a te prof grazie a te prof